Buonasera, del decreto che Mario Monti ha definito Salva Italia è stata vittima anche l'Empals. Nel decreto infatti è presente l'abolizione dell'Empals, così come anche l'abolizione dell'Impdap e il loro accorpamento all'interno dell'Inps. Inps che diventerà così un gigantesco ente previdenziale pensionistico che come vi ricordiamo già dal 2007 è oggetto di ulteriori accorpamenti a partire da quando entrerà in vigore il decreto l'Empals dovrà riorganizzarsi per praticamente trasferire tutte le posizioni aperte quindi tutte quelle persone come noi che stanno pagando contributi all'Empals così come anche tutti quelli che stanno percependo già una pensione. Si parla di 300.000 lavoratori attuali e 60.000 posizioni pensionistiche aperte dovranno essere trasferite all'Inps ma non soltanto, anche tutta la macchina tecnologica dovrà essere adeguata per cui come forse già sapete adesso attualmente si andava nel sito dell'Empals per aprire l'agibilità e controllare la propria posizione pensionistica questa cosa dovrà essere fatta dal sito dell'Inps quindi ovviamente il passaggio non sarà immediato ma nel corso del 2012 dovremo tutti dire addio all'amato Empals